Sì, buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito, grazie a Serena dell'introduzione. Io faccio un discorso abbastanza abbraccio su appunto la questione dell'informazione, un po' di quello che è stato dal mio punto di vista il modo in cui è stato narrato, in cui ci troviamo a vivere negli ultimi 19 mesi ormai, da quando è scoppiato il Covid a febbraio 2020. Penso di essere stato invitato soprattutto appunto perché ho scritto un paio di articoli critici fondamentalmente sull'informazione, sul modo appunto in cui si è costruito un discorso di un certo tipo a livello mediatico sulla gestione della pandemia e anche più recentemente su un certo tipo di rappresentazione mediatica di quella fetta di popolazione diciamo che in qualche modo da prima era scettica nei confronti delle politiche governative in senso generale, in qualche modo è stata, viene definita a mio avviso in modo eccessivamente sbrigativo come Novax, nel senso che all'interno di questa popolazione anche per motivi di una ricerca che stiamo conducendo insieme ad altri colleghi, in realtà c'è dentro una varietà molto ampia di soggetti e poi ovviamente come penso tutti e tutti sapete questa cosa si sta soprattutto focalizzando sulla questione del Green Pass che ovviamente è uno strumento, magari anche su questo poi potremo dibattere, spero che ci sia un bel dibattito anche dopo i nostri brevi interventi, che è uno strumento che sulla base di alcuni argomenti sanitari si struttura come un discorso fondamentalmente di tipo politico. E nulla, vabbè, in realtà le poche cose che dirò buttando lì alcuni spunti poi sono sicuro che Duccio li approfondirà in maniera più così ampia rispetto ai cambiamenti sociali, alle trasformazioni che questi 18-19 mesi hanno portato, penso che sia abbastanza indiscutibile che il nostro vivere sociale sia cambiato e soprattutto che questo cambiamento sembra, come dire, non essere limitato nel tempo ma si presta alla possibilità di rimanere permanente. Insomma sappiamo che viviamo in uno stato di emergenza dichiarato da oramai da 18 mesi che attualmente è fissato come scadenza alla fine di quest'anno che con buona probabilità potrebbe essere prorogato ulteriormente come è già avvenuto diverse volte negli scorsi mesi. Chiaramente lo stato di emergenza così prolungato è un'anomalia, su questo direi che è difficile essere contrari nel senso che a tutti gli effetti uno stato di emergenza proprio perché è emergenziale dovrebbe avere una durata limitata nel tempo, questa durata si sta protraendo a lungo e questo chiaramente implica sia la costruzione di discorsi fortemente emergenzialisti sui quali si può essere poi più o meno d'accordo ma anche sul fatto che ad esempio alcune scelte di politiche che sono state applicate in questi 18 mesi fondamentalmente soprattutto nell'ultimo periodo quindi direi da quando c'è il governo Draghi hanno ad esempio bypassato molto spesso l'intervento del Parlamento. Io non penso francamente che ci troviamo attualmente in una situazione di dittatura sanitaria come alcune persone sostengono penso che ci troviamo sicuramente in una situazione che non avrei nessun timore a definire post democratica nel senso in cui viene definita anche dalla letteratura scientifica e cioè fondamentalmente una situazione in cui da una parte sicuramente l'intervento della partecipazione democratica a livello di società civile è molto ridotto ma dove anche i meccanismi della democrazia rappresentativa parlamentare sono a tutti gli effetti particolarmente ridotti e invece il potere diciamo governativo si è decisamente ampliato. Io questo penso che sia una cosa su cui bisogna riflettere che in prospettiva futura è sicuramente problematica. Non è una situazione solo italiana ovviamente anche se sicuramente il caso italiano ha delle peculiarità perché comunque siamo sotto un governo tecnico un governo tecnico appoggiato formalmente diciamo da uno spettro politico molto ampio e che ha visto delle alleanze parlamentari che sfido direi tutti e tutti i presenti penso che tutti avremmo avuto qualche perplessità se ci avessero detto due anni fa che avremmo avuto due maggioranze parlamentari come le ultime due che abbiamo visto negli ultimi anni e quindi all'interno diciamo di questo quadro sicuramente l'informazione ha giocato un ruolo chiave penso che lo abbia giocato in maniera diversa nei mesi che si sono susseguiti tutto sommato il governo Conte 2 del quale io scoprendo le carte non ero certamente un sostenitore e un fan è stato trattato con una moneta diversa rispetto a quello con cui viene trattato il governo attuale il governo Draghi anche dai cosiddetti media mainstream che penso che a tutti gli effetti si possa dire che hanno abbastanza appoggiato in maniera unilaterale una narrazione governativa che invece a mio avviso è particolarmente problematica su tutta una serie di aspetti dopodiché come dire anche per l'ambito in cui siamo il posto in cui siamo che è un festival critico già di per sé come dire questa questione la lascerei un po' da parte cioè il fatto che sui media mainstream sia stata data una rappresentazione che la popolazione generale ha fondamentalmente abbracciato e che il potere della televisione secondo me si riconferma in maniera estremamente forte forse di più di quello che magari potevamo pensare come dire lo do un po' come dato di fatto e mi preoccupa meno rispetto a invece il fatto che anche alcune aree che storicamente come dire si sono poste in maniera critica rispetto alle narrazioni dominanti dal mio punto di vista invece hanno un po' abdicato alla loro funzione critica rispetto appunto a questo tipo di narrazione appunto in un articolo di qualche mese fa che ho scritto che in realtà oramai è già datato perché è un'altra caratteristica di questi mesi è che viviamo in uno stato di emergenza permanente di eccezione anche in qualche modo permanente anche se ovviamente lo stato di eccezione è una cosa diversa dallo stato di emergenza però diciamo c'è una permanenza dell'emergenza ma allo stesso tempo un continuo cambiamento anche dei registri discorsivi insomma abbiamo visto tantissime contraddizioni delle quali penso anche siate abbastanza consapevoli nella narrazione della pandemia negli ultimi mesi ecco diciamo quello che secondo me è un pochino più delicato è il fatto che anche l'area critica progressista diciamo ampiamente di sinistra anche extra parlamentare in molti casi ha abbracciato delle narrazioni secondo me problematiche e questo dal mio punto di vista è molto più importante rispetto invece a un discorso sull'effetto che la narrazione dominante ha avuto sulla popolazione generale chiaramente questa cosa la stiamo vedendo soprattutto adesso rispetto alla questione del Green Pass la questione del Green Pass è molto complicata e la lascerò sviluppare forse di più da Duccio però insomma il fatto che apra dei fronti di come dire possibile perversione della governance liberale al di là della contingenza attuale per la quale possiamo essere più o meno critici rispetto all'applicazione di questa misura io penso che ci siano delle ragioni per essere anche critici nella sua attuale applicazione alcune contraddizioni insomma rispetto a dove viene richiesto questa misura e altri posti in cui non viene richiesta sono direi abbastanza evidenti le problematicità il fatto che comunque anche il Green Pass riproduce in realtà delle diversità di classe anche etniche particolarmente preoccupanti ma al di là della congiuntura è uno strumento che in qualche modo può essere applicato anche ad altre situazioni e non ultima la proposta di qualche giorno fa del Ministro Bonetta di estendere fondamentalmente il Green Pass a tutti gli ambiti lavorativi quindi non solamente a quelli più delicati se vogliamo che attualmente prevedono da una parte l'obbligo vaccinale cioè il personale sanitario e dall'altra l'obbligo di Green Pass che dal mio punto di vista è sostanzialmente un obbligo vaccinale su rettizio e che possono permettersi di sostenere solamente alcune categorie di persone fondamentalmente con un reddito più alto perché sappiamo che poi questa misura è discriminatoria anche da questo punto di vista e tuttora non c'è un dibattito che secondo me sarebbe necessario soprattutto a sinistra rispetto ad esempio alla non gratuità dei tamponi a tutta una serie di questioni che tendono a non mettere tutta la popolazione sullo stesso piano riferendoci solamente a dei contesti italiani europei occidentali senza guardare al grosso elefante nella stanza che è quello della questione dei brevetti di cui si è parlato anche nei giorni scorsi in questo festival con Vittorio Gnoletto ed altri interventi quindi non mi dilungherò troppo però insomma è abbastanza evidente che nel momento in cui bisogna fronteggiare una pandemia l'idea di fronteggiarla a livello locale con delle misure che non prendono in considerazione la formazione di nuove varianti ai quattro angoli del pianeta è chiaramente andare un po' contro un muro appunto queste questioni mi sembra che non stiano emergendo più di tanto nemmeno negli ambiti della critica della sinistra militante e questo dal mio punto di vista è abbastanza preoccupante è preoccupante perché appunto come dicevo in questo pezzo che è stato pubblicato qualche mese fa sulla Fionda mi sembra che rispetto a qualche a qualche stagione precedente di movimento e di critica all'esistente abbiamo interiorizzato una come dire una narrazione televisiva in maniera profonda per la quale come dire ci poniamo spesso in maniera critica rispetto ad alcuni singoli elementi ma di fondo molto spesso è difficile uscire dal campo di battaglia per come viene presentato fondamentalmente dalle narrazioni dalle narrazioni televisive secondo me questo cambia un po' ad esempio la prospettiva rispetto a quello che era il mondo di Genova sappiamo che siamo nel ventennale di tante cose dell'11 settembre che è un altro chiaramente evento forse l'altro evento chiave che ha cambiato il mondo negli ultimi vent'anni oltre al covid che probabilmente è l'altra cosa che diciamo a livello di importanza può essere paragonato a quella stagione lì però ecco nella mia impressione di uno che ha vissuto Genova in maniera così sentendola narrare per questioni anagrafiche sostanzialmente ma essendomi poi un po' formato a livello di movimento sulle narrazioni di chi Genova l'ha vissuta ecco la mia impressione è che l'idea di altri mondi possibili fosse molto più possibile da argomentare in quella stagione lì e che invece adesso ci si fermi molto spesso solo a delle critiche puntuali su alcune misure su alcune problematiche specifiche ma ci sia un pochino più di difficoltà come dire a mettere proprio in discussione una costruzione narrativa più ampia e unilaterale e questo porta all'altro grosso punto che secondo me è fondamentale io butto lì alcuni stimoli poi ripeto lascerò Duccio espanderli e magari poi facciamo un altro giro di interventi o qualche domanda e cioè il fatto di un'interiorizzazione della visione del mondo tipicamente occidentale e questo dal mio punto di vista è un aspetto molto problematico nel senso che il modo in cui viene fondamentalmente governata la pandemia è un modo di governarla totalmente come dire con una visione del mondo occidentale volta al produttivismo di fatto il mantra che comunque ha governato i discorsi negli ultimi magari non nei primi due mesi diciamo dove c'è stato lo shock iniziale se vogliamo post scoppio della pandemia in occidente in cui ci sono state una serie di chiusure anche se non generalizzate alcuni settori sono andati avanti come se più o meno nulla fosse ma dopo quella stagione lì di fatto l'obiettivo fondamentale è tuttora l'obiettivo fondamentale è quello di tornare a una normalità post covid diciamo pre covid basata su un ritorno ai consumi come erano prima e mantenendo un'idea produttivista sostanzialmente sostanzialmente inalterata e poi questo come dire si riproduce anche nel modo in cui viene curata questa pandemia io non sono un tecnico rispetto alle questioni vaccinali penso che il vaccino sia uno strumento importante ma altrettanto non penso che sia l'unico strumento che si debba mettere in campo in questa congiuntura e invece a tutti gli effetti sostanzialmente al momento al momento è così comunque ci troviamo dopo 18 mesi ad avere gli stessi problemi che c'erano di sovraffollamento dei mezzi pubblici i soliti problemi relativi alla mancanza di una di interventi sulla medicina territoriale tutta una serie di questioni di cui appunto sappiamo sappiamo bene e invece l'idea è quella fondamentalmente di puntare su una grossa tecnologia occidentale che risolve una questione in maniera puntuale ma che di fatto lascia inalterati alcuni problemi istrutturali concludo appunto dicendo che è stato detto nei mesi scorsi è stato detto in realtà dall'Ibbess che è l'equivalente del più noto IPCC che è il centro intergovernamentale sul cambiamento climatico l'Ibbess è quello che si occupa di biodiversità è stato detto che stiamo entrando nell'era delle pandemie e che quindi il covid fondamentalmente non sarà l'ultima in realtà il rapporto dell'Ibbess su questa cosa la pone in maniera critica cioè dice fondamentalmente che siamo ancora potenzialmente in tempo attuando un altro tipo di rapporto fondamentalmente con l'esistente e altri tipi di politiche per uscire da questa situazione l'idea però dell'era delle pandemie poi è stata divulgata in maniera abbastanza diversa da Ursula von der Leyen fondamentalmente dandolo come un dato di fatto e quindi costruendo un discorso narrativo per cui come dire siamo dentro a questa cosa ci siamo dentro non possiamo fare in una maniera diversa e quindi dobbiamo affrontarla in una maniera appunto emergenziale e cercando di mettere dei buchi delle pezze a dei buchi che si stanno creando e a me sembra che sostanzialmente quello che è avvenuto che sta avvenendo anche adesso è un po' questo cioè quello di cercare di tamponare una falla ma di non andare ad aggredire più alla radice tutta una serie di problematiche che sono sostanzialmente più ampie di quello dell'eliminazione di un singolo virus e di una singola patologia appunto che interessa tutta la popolazione mondiale ma della quale di fatto sta giocando una partita fondamentale l'occidente e sta escludendo tutto il resto del mondo io chiudo qua questo intervento così abbastanza confuso e in cui ho cercato di dire alcune cose lasciare la parola a Duccio sulla parte più di trasformazioni che questa situazione ha comportato a Duccio a Duccio a Duccio a Duccio a Duccio a Duccio a Duccio